Che si affronta il problema dei tassisti come affrontati i problemi dei ferroviari stiamo freschi. C'è un disservizio evidente, basta andare davanti alle principali stazioni ferroviarie, non si trovano i taxi manco a pagarli a peso d'oro. Ci auguriamo che il Ministro dei Trasporti invece di chiacchierare si adoperi per affrontare questo tema che è un tema di un servizio pubblico, non dimentichiamo l'essenziale, che purtroppo sta venendo meno. Vediamo invece sul salario minimo, oggi sembrava che la Commissione dovesse affondare fondamentalmente la proposta unitaria invece slitta domani. Cosa vi aspettate? C'è possibilità di apertura? Noi ci batteremo fino in fondo per tenere in vita la proposta delle opposizioni. Ci auguriamo che il Governo cambia idea, servirebbe dialogo, confronto, anche proposte migliorative. Il Governo per il momento ha scelto la strada del no pregiudiziale e ideologico, ma è una strada che va contro anche la stragrande maggioranza degli elettori del centro-destra, perché tutti i sondaggi dicono che tre quarti degli italiani sono a favore, ma sono a favore anche la grandissima maggioranza degli elettori di Fratelli d'Italia, della Lega e di Forza Italia. Quindi speriamo che il Governo prenda atto che c'è un problema molto grave, 3 milioni di persone, di lavoratori sottopagati e spesso sfruttati. Il salario minimo è adottato da 22 paesi su 27 dell'Unione. L'Italia non è tra questi, ma è giunto il momento di introdurlo anche nel nostro paese. La maggioranza è al potere da nove mesi, nove mesi, e soltanto adesso chiedono tempo per presentare una proposta che potevano tranquillamente elaborare tempo fa. Ci sembra una richiesta strumentale per evitare invece che si discuta subito di un problema che è un'emergenza sociale. Sulla maternità surrogata il voto è slittato la settimana prossima, ma il Partito Democratico non ha voluto votare la mozione Magi di Più Europa. Il tema è che noi siamo contro l'ipotesi di trasformare in un reato universale la GPA, però come ha già detto più volte la segretaria Schlein, la nostra posizione non cambia per quanto riguarda la disciplina attualmente prevista dalla legge 40 che proibisce la GPA nel nostro paese. Questo è il tema di fondo.